Ciao, oggi torniamo a parlare di manifestazione, ma questa volta attraverso la preghiera. Una preghiera rivolta a una mistica argentina vissuta tra il 1800 e il 1900. Il suo nome era Madre Maria Loredo Salomè. Lei nasce in Spagna nel 1854 e già dal giorno della sua nascita cominciano le prime manifestazioni. All'epoca infatti la Spagna era colpita da una grossissima siccità che durava ormai da mesi, ma il giorno in cui nacque lei la siccità smise di colpo e quel giorno lì incominciò a piovere e venne giù la pioggia in grande quantità per diversi giorni. La sua grande fede in Dio e in Gesù comincia a mostrarsi sin dai primi anni di vita, quando a dieci anni corre dalla madre per dirle che l'immagine di Gesù che era nella chiesa in cui era solita andare le aveva sorriso con grande amore. Quando lei avrà undici anni la sua famiglia sarà costretta per motivi di guerra a trasferirsi in Argentina, a Buenos Aires appunto. Crescendo la ragazza diventa molto bella e comincia a essere circondata da corteggiatori e si sposa molto presto con un ricco proprietario terriero di Buenos Aires. Da lì comincerà ovviamente ad avere contatti con le famiglie più potenti di Buenos Aires e comincia la sua opera di carità verso i più bisognosi grazie anche ai contatti che ha con le varie famiglie. Rimarrà vedova molto presto a 23 anni per poi risposarsi a 28 anni e rimanere vedova di nuovo dopo pochi anni. Sarà da lì in poi che inizierà la sua vera opera di carità. Conoscerà anche il mistico guaritore all'epoca molto famoso a Buenos Aires, Pancho Sierra, che diventa un suo mentore. A quel punto comincerà ad essere molto nota nella sua zona ma anche nelle zone limitrofe e si rivolgeranno sempre più persone a lei ma non solo persone diciamo disperate e bisognose ma anche persone potenti, influenti, persino dei politici e divenne famosa perché riusciva a trovare sempre la soluzione a qualunque problema. Da persone che avevano bisogno di una casa, erano senza tetto, lei in qualche modo riusciva a trovare la soluzione, riusciva a trovare lavoro a chi ne aveva bisogno anche grazie ai contatti delle famiglie che aveva, aveva comunque ormai una serie di amicizie potenti ma riusciva anche a guarire imponendo le mani quindi si rivolgevano a lei anche persone con gravi problemi di salute che la medicina tradizionale non riusciva più a curare. Lei non ha mai rinnegato le proprietà curative della medicina classica però riteneva che certe cose soltanto la fede in Dio riuscisse a curarle. Venne addirittura a un certo punto imprigionata poiché accusata di diciamo stregoneria, si credeva che lei usasse magia, lei invece la stigmatizzava credendo che fosse contraria all'opera di Dio quindi lei era contro qualunque tipo di magia e spiritualismo. Lei si rivolgeva invece all'invocazione di particolari santi oppure con metodi poco usati all'epoca come ad esempio usare acqua fredda che era un metodo che aveva imparato dal suo maestro Pancho Sierra o qualche goccia di olio. Una delle cose inspiegabili che le successe fu appunto riuscire ad uscire dalla cella in cui l'aveva messa la polizia senza che nessuno l'aprisse. I poliziotti erano sconvolti poiché erano presenti e a un certo punto la trovarono in strada senza capire come avesse fatto ad uscire la cella era ancora chiusa dall'esterno e lei non aveva la chiave eppure in qualche modo la sua fede, così disse lei, l'aveva portata fuori. E fu proprio allora che le venne dato il titolo di madre Maria Salomè poiché la popolazione ormai la vedeva come la madre benevola che aiutava tutti quelli in difficoltà e continuò la sua opera di carità e beneficenza per tutta la sua vita, ovviamente indottrinando le persone sulla fede in Dio, sul condurre una vita retta sia mentalmente che fisicamente che a livello diciamo di fede. Infatti quando le veniva chiesto da dove arrivassero i suoi poteri, quando imponeva le mani per guarire le persone, la sua risposta era non sono io, è la tua fede che ti sta guarendo. Profettizzò anche alcuni eventi persino politici importanti che poi avvennero all'epoca in Argentina. Lei tuttavia continuò a considerarsi una umile servitrice di Dio, continuava a dire che lei stava solamente continuando l'opera di Gesù qua sulla terra, infatti nella preghiera che andremo a vedere vedrete che si rivolgono a lei come continuatrice dell'opera di Cristo e rigeneratrice dell'umanità e che stava semplicemente compiendo il suo compito, che stava portando avanti una missione che Gesù e Dio le avevano affidato. Morì poi nel 1928 lasciando la popolazione in lutto, ci fu un grande dolore da parte di tutta la popolazione poiché avevano perso, diciamo così, la loro madre. Ma la sua opera non si fermò con la sua morte, infatti ancora ad oggi in Argentina il suo culto è molto sentito e molto praticato e qui arriviamo al fulcro del video, ovvero la preghiera che potete rivolgerle se avete bisogno di qualcosa. Molte persone infatti ancora ad oggi utilizzano questa preghiera rivolta a lei per ottenere il suo aiuto. Ora io vi metterò la foto sia di madre Maria Salome Loredo che la foto della preghiera, così potete mettere in pausa il video e farvi uno screen. Una volta stampata la sua foto e la preghiera dovrete agire così. Allora la preghiera va recitata per 13 giorni di fila, 13 volte al giorno. La preghiera come vedrete è molto breve, quindi ci si riesce tranquillamente. Stampate la foto di madre Maria, la ponete davanti a voi sul tavolo e accendete una candelina, va benissimo una candelina tea light bianca e quando l'accendete recitate queste parole qui che poi vi scriverò di modo che possiate fare lo screen. Che la fiamma di questa candela ti porti calore e luce, in cambio io chiedo la grazia e la ricompensa per poterti comprare le candele. Infatti una volta che poi avrete recitato la preghiera, la foto di madre Maria Salome, potete anche piegarla e tenerla in mezzo al portafoglio, volendo mettendoci anche una banconota nel mezzo del taglio che preferite, poiché attira abbondanza. A quel punto potete incominciare a recitare la vostra preghiera. Ora ve la leggo un attimo, nel punto in cui dice ti chiedo anche un'intercessione speciale per, è lì che dovrete inserire il vostro desiderio qualunque esso sia, ma non con forma di supplica, ti prego che, fa sì che, spero che. No, dovete pronunciarlo con convinzione e fede che è la chiave di tutto, era anche la chiave dell'opera di madre Maria Salome. Io voglio che e poi dite il vostro desiderio, ovviamente con convinzione e fede che questo si avvererà. Reciterete la preghiera per nove volte, dopodiché vi fermate e parlate con la foto di madre Maria Salome e parlate come se steste parlando con una vostra amica, le esponete il problema, le spiegate che cosa sta succedendo e che cosa volete che si realizzi. Dopodiché recitate altre quattro volte la preghiera fino ad arrivare appunto alle 13 volte al giorno e la reciterete per 13 giorni di fila senza mai interrompere, senza mai saltare un giorno. Una volta che avete recitato per 13 volte ogni giorno la preghiera, la candela la lasciate bruciare davanti alla foto di madre Maria Salome. Sarà appunto dopo il tredicesimo giorno che avverrà la manifestazione del vostro desiderio. La conoscevate? Conoscevate questo metodo? Conoscevate questa mistica argentina? Fatemi sapere in un commento se la conoscevate o se lo proverete e se lo proverete fatemi sapere se avverrà la manifestazione. Lasciate un like se vi va, iscrivetevi per non perdervi video futuri. A presto!